Sì, oggi presentiamo una nuova misura dedicata alle piccole e medie imprese che intendono sbarcare su nuovi mercati, ampliando così i propri orizzonti commerciali per aumentare le vendite, il fatturato e di conseguenza la produzione e l'occupazione. Si tratta del bando per il sostegno a progetti di internazionalizzazione, che è finalizzato ad avviare e sostenere un percorso attraverso il quale le imprese possono incrementare l'export, possono diversificare i mercati di sbocco, possono utilizzare i canali digitali. Saranno finanziate tutte quelle spese necessarie per la redazione dei piani dell'export, per i servizi dell'export, per esempio la consulenza necessaria per tutelare marchi e brevetti, la consulenza necessaria per le certificazioni, quella ancora necessaria per le campagne di promozione oppure per la realizzazione di siti di commerce. Saranno altresì finanziate le spese che servono alle imprese per partecipare alle fiere e alle manifestazioni internazionali. C'è un budget molto rilevante perché è di 5 milioni e mezzo di euro e potranno essere presentati progetti che abbiano un minimo di spesa di 15 mila euro e un massimo di 200 mila euro. Ci sarà un conto capitale, quindi un fondo perduto del 50% per un massimo di 100 mila euro. Le domande potranno essere presentate a far data dal 25 febbraio del 2024. Beh, ci aspettiamo una grande partecipazione perché la Regione Calabria, le nostre imprese, le imprese operanti in Regione, hanno e producono delle eccellenze assolute che debbono essere comunicate e pubblicizzate per poter essere vendute anche all'estero perché ciò darà la possibilità ai nostri imprenditori, come accennavo prima, di aumentare le vendite, il fatturato e quindi soprattutto la produzione e l'occupazione. Beh, noi riteniamo che sia necessaria soprattutto una consulenza esterna. Ci sono gli export manager o altri consulenti che si occupano in maniera precipua a aiutare gli imprenditori a redigere dei piani per far sbarcare i nostri operatori sui nuovi mercati. È necessario quindi un sostegno di questa natura che va naturalmente a porsi accanto all'altra azione fondamentale che è quella relativa alla comunicazione e alla promozione che verrà altresì finanziata grazie proprio alla possibilità di contribuire da parte della Regione attraverso questo bando alle spese che le imprese mettono in campo per partecipare alle fiere internazionali. Decisamente molto soddisfatti perché il progetto SAIF ha dato la possibilità a tante piccole e medie imprese calabresi di restare indenne da quello che è stato il problema legato al caro energia. Siamo riusciti ad indennizzare integralmente i nostri imprenditori dal maggior costo sostenuto per l'energia nel periodo 22-23. Oltre 53 sono stati i milioni spesi. In due mesi abbiamo erogato quasi l'intera somma. Ne residua ancora il 4-5% che verrà erogato comunque entro il 31 di gennaio di quest'anno. Sì, ciò è vero. Bisogna stare insieme e agire anche in forma aggregata. Ciò è tanto vero che proprio nel bando che noi andiamo a presentare stamattina le forme di aggregazione rappresentano un meccanismo premiale delle aziende per accedere a questa tipologia di contributo. Beh sì, è stato sicuramente molto positivo, ma noi non ci dobbiamo fermare. Dobbiamo continuare a supportare il nostro sistema produttivo per fare in modo che l'export aumenti sempre di più. Anche perché il mercato interno prima o poi si satura. Sbarcare su nuovi mercati significa avere la possibilità di produrre di più, di vendere di più, di dare più posti di lavoro. Che ci sia un fermento in Calabria per l'attività incentivante messa in essere dalla Regione Calabria e peraltro fuori di dubbio. Oggi vi presentiamo anche quelli che sono gli esiti, o per meglio dire i risultati del bando impianti e macchinari che ha avuto un grandissimo successo perché ci sono arrivate istanze per 99 milioni di euro. Ciò significa che le imprese sono disponibili a mettere sul piatto nel giro di pochissimo tempo investimenti per circa 180 milioni di euro. Noi abbiamo aumentato subito la dotazione finanziaria che precedentemente era fissata in 25 milioni di euro in 60 milioni di euro e ci sarà la disponibilità a valutare ulteriori ampiamenti all'esito delle istruttorie che verranno effettuate su questo bando. Grazie a tutti.